Questa è una misura che si integra nell'ambito dell'azione della Giunta Caldoro con un meccanismo di sistema che è quello di tener dentro con percorsi che coinvolgono pubblico e privato, istituzioni, banche, tessuto produttivo per aiutare le nostre persone, le piccole e piccolissime imprese nel versante complicato del sociale ad avere un'opportunità. E vorrei anche segnalare che questa è la prova di una programmazione che stiamo mettendo in campo nella quale accanto a misure che sono già in piedi come quelle del microcredito che sta avendo un ottimo successo, che ha avuto un ottimo successo, ora vanno oltre e quindi ci segnalano anche la possibilità in una regione come la nostra in un tempo di crisi di avere comunque delle risposte organiche di sistema che ottengono dei risultati. Il fondo Jeremy per destinato alle attività sociali è una grande conquista della regione Campania e dell'ulteriore tentativo insieme al già al microcredito di aiutare i soggetti non mancabili. Quindi oggi la regione stanzia 14 milioni di euro per le imprese che operano nel sociale e faccio un appello appunto al sistema bancario ad essere quanto più veloce possibile e soprattutto per la parte che riguarda il sistema bancario a utilizzare tassi molto bassi perché la parte della regione sarà appunto a tasso zero. Quindi noi ci auguriamo che le banche per la parte loro siano comprensivi rispetto all'erogazione del tasso nei confronti di soggetti destinati appunto all'inclusione sociale.